Nella mattinata di oggi, 5 settembre, Papa Francesco ha incontrato il Presidente della Repubblica di Panama, Juan Carlos Varela Rodriguez. Durante i colloqui, svolti in un clima di cordialità, ci si è soffermati sulla collaborazione tra la richiesta e lo Stato nell'affrontare alcune problematiche sociali, soprattutto la gioventù, i poveri e i più vulnerabili. Si è fatto cenno a diverse questioni regionali nella prospettiva della prossima celebrazione del settimo vertice delle Americhe e si è parlato anche di alcune problematiche internazionali rilevando l'impegno del Paese per la costruzione della pace.